Allora, Monica Mecacci, responsabile dell'ufficio stampa di Ford Italia. Le chiediamo, Monica, questa nuova gamma che abbiamo visto oggi a Monaco, che ha di nuovo, di particolare? Diciamo che ha quasi tutto nuovo, che si è migliorato ulteriormente rispetto già a un ottimo veicolo. Il Transit Custom, come sappiamo, è leader del segmento da una tonnellata ormai da anni sia in Europa sia in Italia. Poteva sembrare difficile migliorarsi ancora, eppure lo abbiamo fatto. Abbiamo creato livelli superiori di comfort, di connettività, di tecnologie. Abbiamo ampliato la gamma di motorizzazioni. Siamo andati sempre più incontro alle esigenze di chi utilizza il veicolo e quasi lo considera una casa, essendo il suo compagno di viaggio quotidiano. La grande novità è quella legata all'arrivo l'anno prossimo della motorizzazione 100% elettrica e soprattutto tutta una serie di elementi legati alle tecnologie, quindi alla standardizzazione di sistemi di assistenza alla guida, che ovviamente vanno nell'ottica di una più sicura gestione del veicolo durante la giornata, così come una serie di elementi di connettività legati ad esempio all'utilizzo del sync col touchscreen da 13 pollici.